a tutti i ragazzi non so se avete sentito il ciao però vai ciao a tutti i ragazzi sono Igor il tanke di chi sei? sono alan se sei un sinx ray è la prigione di alcatraz ecco parlo io intanto che lui decide qua siamo in zombie nella nuova mappa prigionieri di alcatraz cos'è? si possono uscire due zone? esatto scegli come faccio questa? affronti non morti mentre tanti tenti di vita della prigione fisica e l'altro? ah insieme al gruppo allora avvia avvio questa chiama mappa mob of the dead ovvero mappa zombie del pacchetto apri isola di alcatraz ma vediamo come è fatta ma sto giocando da solo ah io non posso giocare che cattivello che sei vabbè in sintesi ehm la prima volta che abbiamo anche noi si infatti non abbiamo ancora visto quindi se non sappiamo qualcosa non più andate non lo sappiamo proprio niente adesso ah ma si parte subito così cosa sta non lo so io ho visto per levitare lei per fare la pizza di levitare ma io ho visto qualche video ah ah tu sei quindi un fantasma ma se mi servono lo vedeva c'è non devo prenderli ehi non si dico le parole cibulletto esatto ah è proprio antico guarda le armi sotto non si è passato non si è passato non si è passato non si è passato con il povero di morire tanto è una prova sei morto che cosa posso fare così posso puoi dare la scossa per per aprire porte no non penso e per gli animali tuoi amici penso e posso uccidere i zombie no si 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 può ho visto su internet a me non sembra corri 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 si infatti sono ma dai 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 kill it kill it no mamma hanno gli occhi rossi qui eh perché piangono quindi no non ci credo beh si ah questo ma vedete allora hai detto che ho fatto adesso sta piccola parte aspettate che ricostruiamo la barriera se no i nudisti entrano la barriera pallina cioè ma non ci posso questo mi fa paura perché è tutto congiglionato trodette nudo è un trucco ho visto che ci deve essere un gigante che non corre mai nudo e mi fa paura e lo so non possiamo farci niente questo è un comiglio è un comiglio mi sembra che bisogna accorre dei pezzi per costruire cos'è nel mk14 c'è la cassa secondo te cos'è la cassa la cassa per la cassa per le cose non c'è mai giocato a zombie si è giocato ma era così scarso che i miei amici se l'abbiamo con la cassa per le armi a e non so poi comunque io di solito giocavo mv3 che la più divertente e poi bonus sono assisti di ci sono e' preso prima il bonus no ma non quelli la magia si vabbè ma lo sai che black ops 2 per gli accepolamenti fa un po' schifo cacca mica cacca mica e' l'attività ma dati adeguati no questo è l'unico apporto che posso aprire le munizioni e' non unizio e' comprare non ci sono e' comprare oh mamma se cadi se cato appunto no devi cadere no no c'è paura che bella una prigione bella bella devi scendere sicuro provosti si c'è la scala mamma mia cretivo oh te lo dà 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 te ti e' adesso nel futuro non lo so tutto è passato con le più grandi sbagliarmi ero detto che polizzi che sono forti non si questo cosa è l'occhio del diavolo un amici paura che dico non si può le parole bulletto ma non trova altre parti da aprire se questo questo ecco ma devi prendere subito no perchè non so cosa ecco ma si apri subito no 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 bella non è costituito la barriera per us ecco cos'è 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 molto sospetto p ho desaline zonbo no lui si chiama giungo non zonbo dovete sapere che giungo buco la forma di dipo corna alla la forma di pop corn al al tutto si chiama al cinema quindi noi prendiamo il pop corn quale cambio questo vado a sedere che bella cos'è? la reagan cioè non sai cos'è la reagan se l'ho usato una volta però buono letto di gioco così ma è questa trappola che so come trappola cita strappola che cade dal tetto caproporto si te la ricordi ma sono come sta ferma immobile guarda un po' surreale no mi sa che la gigante buono oh 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 calmati oh 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 no no la grata la grata c'ho paura io c'era il gioco le mappe quelle nuove morivo sempre a causa del gigante quelle di percorso ma devi stare calmo non può arrivare così un bullet che devo continuare a correre così per tutta apri la porta no dove ucciderò con la rega scusa la rega la trappola che cavolo la trappola la trappola ha morto se l'ho fatto sto intanto tanto per ah 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 sei morto ci sono tutti i pezzi ma no ma vai ti animati ah si le ho ci sono si io io le emozioni è vero è vero abbassa i notisti sti no forse la miglia di vendita l'erudistica io mi chiedi tranquillo ahahah tranquillo ultimo 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 di cosa di capo c'è quindi muoio e vado e mi trasformo o io non so da una specialità cavolo un bonus giacquernat 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 se neanche ruba la chiave al diritto oh mamma mia ma quante grandi la porta ma il caso devi dire qualche parola cioè io sto spiegando un'ottima munizione un'illiminazione istantanea sei un'imbecile cattivello non dimmi che ho ancora un punto fammi vedere impiccati aspetta oh io non so dove do andare impiccati guardati che bello vabbè un pezzo un pezzo spingi acido allora abbiamo in tutte le piccole stanzette si vabbè ma è grandissima è per veri nerd diciamo spingi acido spingi acido il panico su questo tipo lo so ma dovete essere sono pezzi sono pezzi sono pezzi io ti diri c'è un pezzo non so non è un buco ti chiede non è un buco non è un buco non trovo il tuo il tuo cos'è mi chiede mi chiede mi chiede forse alleato no ti uccide no no il fuoco ah si allora come nei video l'ho visto uccide gli zombie se li mangia bello ma cosa dobbiamo fare non lo so il pezzo non lo so non lo so forminiamola cosa fa vedere ma dove calli? eh si muo pure bobby hey jake sono bobby l'apro ma l'ho bisogna andare al corriente ah già prima c'era la prendo il macchinario è quello mi chiede mi chiede mi chiede mi chiede mi chiede mi chiede cos'è? uzi cos'è? ha rimesso la uzi io bisogno della cassa dai ragazzi forza ragazzi cos'è? no no io ho paura dai ah non ne sono un gioco ma che paura cos'è stile lì lì a destra no non è qua perchè la ciappone poverino perchè e va bene ancora oh ma porca beh non è male qua si lo so qua destra ah no devi tornare anche indietro quindi non 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 ma ma cosa cosa quello e' zombo i ma io ho trovato a mi bruciano gli occhi bobby e' colpa di voglio non gli occhi mi fa mandare davvero no se non metti mettevi di mangiare gli oculti no c'è la città non c'è non c'è non c'è oh ma non è iniziata ma non c'è un'altra cassa no 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 oh però c'è qualcosa che posso pagare per sbloccare ma cosa mi serve nella mappa ah no per sbloccare il tavolo però no c'è il tavolo e' il tavolo da lavoro dove costruisce le cose cioè e che ne so tipo e varie cose ma torna dietro magari adesso c'è qualcosa da indietro perché colorare avanti voi vai oh si vai esatto e' anche silenziato sbaglio no questa cosa è una porta l'apro si mille euro almeno bravo spegni soldi ma no mi sono ritratto no pila figato perchè si impiccano si divertiranno perchè ne sa provate senza mappa questa mappa eh sai com'è prigione di azkaba no scherzi porta apri la porta no non mi piacciono queste porte dove c'è tutte le celle non sono stavo per carriere cos'è si vabbè è tutto interruttore c'è pure una mano io ti pare che mi compri una mano dove oh santa quattaccia mi sono spaventato ah io mi fido di te però se ti spaventico non nulla cos'è ancora ste parole tutta la corrente ma dove la trovo la corrente giù ti ricordi cosa sono fuori ti ricordi che c'era cosa c'era no io si ma non credo si possa e c'era la sua operazione corrente il cos'è tutto cos'è qualcosa cosa 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 partizia no no come io la cavolo di specialità e io voglio una città non si può vedere tutto per 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 la mia specialità direi ok quando eravamo all'inizio per 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 5 e per 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 io non so dove si trova il paese però se mi dai la via magari fu dove ero io prima non capisco niente sopra sopra ma 23 per 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 ma non mi ricordo più rifaccio tutto il corso inizio vedi questo tentare di da dare energia con forse puoi usare al di là per internazionati appunto la dinata energia no 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 ma è solo eccolo ecco qualcosa di molto grande no no è stato no 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 ahahah l'ottore iscrivito 3 box e siamo già sedici minuti quando è che muovi puoi morire ora ti prego voglio che muovi perché ha fatto lo scorreggio anche per due sto per finire è finito non sono ma o ma e' il massimo hai le munizioni ehi tu tu per caso sai dire cosa alla cassa sali 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 dove vado adesso sali c'è un altro potente io infatti ma anche il compagno for ever and ever 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 c'è un metodo infallibere per fare energia mettere la spina nel sedere e fare una puzzetta a si mandato con me e lì la corrente è illimitata dai vai vai un cervello quello che non ci manca non c'è ma quals io e sapete dove trovo le specialità cosa non c'è male ma perchè stizio parla non può stare a casa è un vecchio del cavolo non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è qua forse questo sono arrivati sopra dove ho aperto un botte di porti senza voglio scaccolarmi pericolo pericolo non si fa s devo guardare qualche video tutorial e allo invece di vorrei tg video su guardia video tutorial no video cismicchi cismicchi spazio fichi fichi gnaq gnaq chi ne sopra un'interna modalità tt tutti i soldi a perchè ma tutto tutti vedi che ho ragione io io ho sempre ragione al cacchio e ti ha dato anche tutti ho sempre ragione e i beduini mi fanno ciao c'è i beduini ti fanno cos'è ciliega elettrica cosa devo fare questa specialità ti trovi ah è quello che ogni volta che ricarico dopo delle scosse drogato tipo guarda questo forse si vedo drogato bisogno di corrente e devi farlo da morto mi sa drogato drogato quindi questo speciale ti hanno comprato bisogna di farlo ogni volta no penso adesso le attivate tutto anche se non so e ma l'altro perchè non andavo che ti riguarda le strane drogato l'altro è per la corrente qua questo bisogna andare a chiave a messia e vedi quello era quello lo stesso di su che c'era sopra per attivare la corrente ti ricordi guardate ci deve essere carico non è così tante munizioni non è così tante munizioni credi che la riga non è tuttivissimo io troppo devo andare ok per il cuore ma magari mi riuscito apposto si muovo scusa mica è un gioco non è mica un gioco infatti noi mica stiamo giocando alle costume roma detto la parolaccia io sono da casa e piango dalla mamma mi dici la città mamma scarica sto poverato si trova la ma tanto può morire e vivere a suo piacimento arancicidati e provare con il tempo porto attuale che mi devo scegliere si sono diventa fantasma toglie tutti i punti fatti un giro fuori dalla palla non posso mi sa si traccia un tempo ma vedi che ho sempre una mamma non ci posso credere io ho sempre ragione qui tutte le scosse così e tu non mi non mi dai retta e se hai fatto tutto il tempo muori e mi sa che devo rianimare il mio no cosa non posso qua 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 e torna su questo grosso però si capisce poco così si no cdm ecco io che sei giusto giusto foresta los marones adesso vado a comprare quella specialità oh stai tranquillo eh zio trusso vado a comprare quella specialità però se non c'erano io non ce la facevi perchè tu sei un pochino ritardato ma vaffan bagno siiii sei morto volevo almeno vedere la funivia e altre cose vabbè comunque sei stato bravino 242,2 si ragazzi 24 minuti di video non è che le caprette ci fanno ciao qua e ti sorridono i monti questa è la mappa non l'abbiamo potuta vedere tutta perchè Alan è scarso perchè te devi andare a casa dietro vuoi dirmi che ti sei fatto ammazzare perchè io devo andare a casa certo no no vabbè dai il video termina qua aspetta il video finirà sia sul mio canale che sul suo ricordatevelo ciao a tutti ciao